Proseguiamo ora con il calcolo delle derivate delle funzioni fondamentali. Consideriamo l'esponenziale in base naturale, in base E. Quindi f di x uguale e alla x. Calcoliamo la derivata partendo dalla definizione. Dovremmo prendere il limite per h che tende a 0 di e alla x più h, ossia f di x più h in generale, meno e alla x tutto quanto fratto h. Possiamo raccogliere al numeratore e alla x. Per le proprietà delle potenze e alla x più h significa e alla x per e alla h. Quindi abbiamo il limite per h che tende a 0 di e alla x che moltiplica e alla h meno 1, tutto quanto fratto h. Il risultato è e alla x perché ricordiamo che vale il limite notevole, limite per h che tende a 0 di e alla h meno 1 fratto h uguale 1. Ricordiamo che le derivate, meno nella loro definizione, sono limiti. E quindi dimostrare quanto vale la derivata di una funzione, magari una funzione semplice che si possa fare tramite la definizione, spesso richiede la conoscenza dei limiti notevoli. Vediamo la funzione inversa dell'esponenziale, ossia il logaritmo in base e, quindi logaritmo naturale, ln di x. Quindi fx uguale ln di x. f primo di x sarà il limite per h che tende a 0 di logaritmo di x più h meno logaritmo di x tutto quanto fratto h. Ora usiamo le proprietà dei logaritmi. Qui abbiamo una differenza tra logaritmi nella stessa base. Questo uguale al logaritmo del quoziente. Quindi il numeratore può essere descritto come logaritmo di x più h fratto x. Quindi abbiamo allora il limite per h che tende a 0 di logaritmo di x più h fratto x tutto quanto fratto h. scomponiamo mettendo due frazioni anziché tenere il denominatore comune. Quindi abbiamo il limite per h che tende a 0 di logaritmo di x fratto x, quindi 1, più h fratto x, tutto quanto fratto h. Ora utilizziamo un limite notevole. Ricordiamo che vale questo limite notevole. limite per y che tende a 0 di logaritmo di 1 più y fratto y uguale 1. Qui siamo nello stesso caso, però la nostra variabile che tende a 0 è h fratto x, mentre a denominatore abbiamo solo h. Allora usiamo un artificio piuttosto comune che consiste nel moltiplicare e nel dividere in modo opportuno per una stessa quantità. Ad esempio, se io questa espressione moltiplico e divido per x, ottengo limite per h che tende a 0 di logaritmo di 1 più h fratto x, tutto quanto fratto h fratto x per x. Come vedete ho moltiplicato e diviso per x, quindi l'espressione non è cambiata. cioè nel complessivo moltiplicato per 1. Ora però applicando questo limite notevole dove anziché il nostro y qui abbiamo h fratto x, logaritmo di 1 più h fratto x fratto h fratto x vale 1 quando h tende a 0. Quindi tutto ciò che resta è 1 fratto x. Ricapitolando, la derivata di logaritmo naturale di x è 1 fratto x. Ricapitolando, la derivata di logaritmo naturale di x.